Sì, siamo contenti, era importante iniziare la partita bene, mettere la partita nella direzione giusta, l'abbiamo fatta. È chiaro che sono orgoglioso delle ragazze perché hanno iniziato il campionato da prima e l'hanno finito la regular season prima ed è un grandissimo risultato. Adesso si torna al campo subito e guarda caso, si torna a casa di nuovo con Roma. Sì, adesso dobbiamo fermarci due minuti, anche un po' assaporare questa partita perché è un risultato chiaramente importante, storico. Sappiamo che adesso abbiamo un sacco di problemi fisici, però proveremo comunque a tirar fuori tutta l'energia che abbiamo. Wow, sì, sono contentissima, veramente è stata la ciliegina sulla torta di una stagione molto positiva che abbiamo fatto. Sono felicissima, abbiamo giocato una gran partita oggi, solida, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e l'abbiamo portata a casa e abbiamo portata a casa il primo posto nella regular season, quindi non potevamo essere più felici di così. La risposta anche a tanti incidenti in percorso, anche adesso aver perso Lorela in vista dei play-off che cominciano subito, cominciano contro Roma, insomma non c'è neanche il tempo di godersi da tanto. O ve la godete? No, stasera di sicuro ce la godiamo. Poi sì, come hai detto te, purtroppo Lorela si è fatta male. È lo sport, questo è lo sport, è successo a me, è successo a tanta gente, purtroppo queste cose succedono. Però sono stata felice della risposta della squadra che abbiamo dimostrato stasera. Infatti questa vittoria va sicuramente a Lorela e speriamo di rivederla al più presto in campo perché ci serve veramente tanto.